Benvenuti su RealNapoliFootball Per farmi sapere che ne pensate Di quello che state per andare a vedere Vediamo chi sarà l'avversario Di questa puntata Eccolo qua Chi dovremo Affrontare Niente po' di meno Che il Napoli Napoli, Napoli, Real Aversa Napoli Direi in questo caso C'è scritto Real Aversa Bene Andiamo Quella divisa nera Va bene No Ok divisa nera per Aldo Vai Allora Ragazzi stanno tutti bene Il nostro avversario gioca con Il 4-3-3 anche lui Quindi formazione praticamente A specchio Proverei a mettere solo Zerisky 3 quartista Magari cerchiamo qualche inserimento Proviamo a prenderli alle spalle A parte questo Andiamo al match Tra l'altro si parte subito Interessante Questa cosa Si parte subito Si parte subito Si parte e battono loro Conoci man Attenzione Politano Zerisky Bell Dribbling Anche sa Recupera la palla Scende Zamm Anche sa Anche sa dentro Per Victor Osimene Che prende palla Fa correre poi Claraschelle Arriva Rientra Claraschelle A cross Di esterno Arriva Osimene Che tira Incredibile Colpo di testa Incredibile colpo di testa Di Osimene Bella giocata In verticale Ragazzi Abbiamo provato a spaventarlo Subito Osimene Impressione Arriva Claraschelle Attenzione La poggia Per Osica In fuorigioco Ma io volevo Andare sopra Sopra Da Politano Attenzione Osica Ancora Impressione Politano Escono Palla Al piede Politano Mario Rui Recopra palla Claraschelle Allarga Zilischi Allarga Per Claraschelle Io oggi Sono già Fulminato Tutto a posto Palla dentro Lobo Bella Anticilo Di Lobosca Che prova Ad andare Da Anghissa Allarga Per Politano Perdiamo Palla Fase un attimo Confusa Di Lorenzo Recurare Palla Errore Brutta Palla Di Di Lorenzo Zilischi Attaccano loro Con Kimmich Chiude Lobotka Osimena Andiamo a chiudere Ancora Poi Nathan Mario Rui Zilischi Andiamo con Karaschelle Che cerca Lungo Vittor Simen La palla Non passa Ripartono loro Ma Nathan Anticipa Palla grande Scende Nathan Cerca dentro Zilischi Che rientra Dribla Zilischi Che arriva Al tiro Zilischi Politano Centrocampo Mica Mario Attenzione Attaccano ancora Provano a girare Loro Palla Con costa Curta Riescono Andarsene Con Teo Attenzione Proviamo a scappare All'indietro Zilischi In chiusura Lobotka Chiude Su Simen Mario Rui Appoggia Per Zielo La reda Mario Rui Che allarga Per Karaschelle Che si gira Rientra Appoggia Per Lobotka Vada Zilischi Appoggia Ancora per Mario Rui Che arriva Attenzione Penetra Rui Cross in mezzo Arriva Simen La palla resta lì Incredibile Ragazzi Non passa Zilischi Tacco Per Karaschelle Karaschelle Ancora Karaschelle Dentro Per Politano Niente da fare Skulls Prova a ripartire Se ne va Attenzione Di Maria Di Lorenzo Prova ad andare In chiusura Arriva Anghissà Bella chiusura E poi Zilischi Palla per Politano E si gira Dall'altro lato Politano Vede Dentro Vick Rosyman Era una palla Interessante Break di Zielo Attenzione Zilischi Dentro Per Karaschelle Che cross Adina Buona Rosyman Rosyman La mette dentro Cross Fantascientifico Di Karaschelle Eh ho visto Ho visto Il fatto di dribbling Aldo Non stare attenti Palla dentro Centrale Arriva Anghissà Chiusura In Chiaripolitano Lo bocca Zielischi Poi Zielo Va subito Dentro Da Osyman Appoggia Per Karaschelle Che non riesce A dribblare Zielo Attenzione Ancora In chiusura Anghissà Kimmi Knatan Lo bocca Spazza Lobo Per evitare Problemi Paraschelle Attenzione Zielischi Arriva anche Rui Ricopra Palla Rui E appoggia Per Zielischi Che prova Ad andare In contropiede Dentro Per Karaschelle A dribbling Di Kavara Va dentro Da Victor Rosyman Si gira Victor Victor Per poco Non riesce Ad andare Da Apolitano Peccato Di Lorenzo Grande intervento Qua Palla Per Anghissà Dentro Per Rosyman Va Da Apolitano Che penetra Apolitano L'alza Dall'altro Lato Verso Karaschelle Forse Potevamo provare A tirarla Anche se Stava sul destro Poli Attenzione Zielischi Prova Nata Cioè Messi Prova Nata Andarsene Nathan Bell'intervento Di Nathan Prova a scendere A Nathan Provato Ad andare Da Zielischi Brutta Qui Mario Lui Anticipa Messi Nathan Lobo Zielischi Va dentro Da Apolitano Che cerca Victor Rosyman Che si gira Faccia la porta Rosyman Cross Verso Matteo La palla Resta lì Pericolosissima Ma non riusciamo A recuperarla Attenzione Prona a ripartire Loro Mario Lui Là dentro Anche se Prova Non scappare All'indietro Di Maria Prova ad andarsene Ma c'è Di Lorenzo Che va a chiudere Attenzione Vanno loro Cross in mezzo Palla fuori Eh non è così facile Come sembra Aldo Non è così facile Come sembra Meret Rilancio Lungo di Alex Verso Victor Rosyman Che colpisce Di testa Non riesce a smistare Il pallone Mario Rui Anticipa L'avversario Scende Rui Appoggia Per Kvara Schelia Si anticipa Allungato la palla Inutilmente Palla Dentro Rachmani Anticipo Su Rosyman Palla Lunga Di Rachmani Peccato Kvara Schelia Va a recuperare Palla La butta Subito Dentro Rosyman Che prova Ad appoggiare Appolitano Niente da fare Lobo Impressione Mamma mia Per poco Recuperiamo Questa palla Incredibile Messi Attenzione Messi Zieli 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 Nathan Prova a fermarsi Loro Vanno in mezzo Rachmani E poi Angissa Fa correre Zieli Zieli Chi alza Questo pallone Osyman Resce a girarla Per Kvara Schelia Scende Kvara Schelia E' un po' Schiacciato Guarda Ricora Palla La grande Mario Lui Dentro Per Zieli Schi Va subito Rosyman Prova a girarla Osi Niente da fare Nathan Bella Anticipo Paolo Bottica Fa una follia Pazzesca Palla Dentro Verso Semen Palla Per Messi Arriva Il maestro Che Anticipa Tutti E fa Finire Il primo Tempo Siamo Noi Amanti Bene Così Si Ma si Deve Rola Sempre In allenamento Si Riparte Osyman Palla Per Lobo Allarga Per Mario Lui Palla Per Kovara Schelia Ferma Kovara Dribling Di Kovara Qui Peccato Che si Porta La palla Fuori E Mità Delle Manin De Capilla Palla Centrale Attenzione Anghissala Sporca Ziedischi La recupera Scende Ziedischi Palla Per Mario Lui Palla Strana Dei Ziedischi Provare Partire Scolz Attenzione Zielo Va Presso Tutti Scolz Anghissala Prova a scendere C'è Nathan Lo botta Bel break Di Lobo Che poi allarga Per Mario Lui Va Da Kovara Schelia Si gira Kovara Dribling Di Kovara Schelia Appoggia Per Mario Lui Palla Per Kovara Schelia Che cerca In profondità Ziedischi Niente da fare Recuperiamo Palla Mario Lui Ziedischi Kovara Schelia Scende Kovara Si allunga Troppo Il pallone Si chiudono Bene Loro Attenzione Kovara Va a recuperare Ancora Lennesimo Pallone Rientra Palla Centrale Per Anghissala Dientro Per Ziedischi Gran Palla Per Osemen Che arriva Quasi In porta E infatti Sì Non riescono Andare dall'altro Lato Per il momento Per me Presto Ziedischi Palla Dentro Verso Rack Maniche L'appoggia Dentro Kovara Che cazzo Si è divorato Che cosa Si è divorato Kovara Che cosa Si è divorato Kovara Ragazzi Attenzione Palla Palla Corta Verso Teo Politano Impressing A vuoto Hernandez Torna anche Ancora Matteo Politano Ziedischi Politano Impressing Di Lorenzo Riesce a ripare Palla Verso Anghissala Che va subito In verticale Da Osemen Che l'appoggia Politano Dribbling Di Politano Cross di Politano Verso Simenti Testa Fuori gioco Fuori gioco Fuori gioco Con quella Buona costruzione Pronto a ripartire Loro Lombotka Invece Riesce a girare Per Ziedischi Che alza Questo pallone Verso Simenti Che appoggia Politano Prova il Dribbling Fermato Da Teo Hernandez Proviamo a rientrare Adesso con Ziedischi Mario Rui Palla Dentro Arriva anche Ziedischi Con Lombotka Che passa Osemen Che alza Il pallone Verso Kvara Schiena Gran palla Scende Kvara Schiena Kvara Rientra Kvara Schiena Giro David Raya Gran parata Palla Corta Verso Costa Corta Attenzione Mario Rui Nathan Riesce a chiudere Qui Ziedischi Zielo Rachmani Prova a chiudere Su Teo E lo ha alzato Per aria Ho alzato Per aria Spero sia solo Un'ambunizione Chiaramente Yes Nathan E' Stanchissimo C'ho Pasquale Mazzocchi On Fire Facciamo così No Facciamo giocare Rachmani A destra Ziedischi E' stanco Dentro Un Instron Perché non vorrei Non vorrei Alterare Gli equilibri Metto Hong Kong Da quest'altro lato Lo metto Seconda punta Perché Politano E' un Fire Quindi preferisco Non sostituirlo Metto Il Cieluto Simeone Simeone E' stanco Va bene Così siamo A 2 4 Mancherebbe L'ultimo Mancherebbe L'ultimo Che posso Fare Entrare Posso Fare Entrare Sono un po' Indeciso Se mettere Olivera O meno Maestro Sto giocando Abbastanza bene Però forse Una mano Lo metto Perché forse Una mano Sulle palle alte Magari in qualche occasione Potrebbe servire Eh si è forte Calcio di punizione Per loro Attenzione De Bruyne Prova a metterla Dentro Meret Mamma mia Qui ce la caviamo Ragazzi Qui ce la caviamo Alla grande Con Meret Che rilancia Lungare Stasso Il ciolito Anticipano Loro Provano A rientrare Vanno loro Da Neymar Mamma mia Rachmani Stiamo rischiando Meret Rilancio Verso Politano Che appoggia A Mazzocchi Angissà Vada Matteo Politano Si gira Politano Riesce a girarla Fallo Fatti ottimo schema Alla supponizione Ma la gente ricordava Perché è stato veramente Molto interessante Lobotka Provano ad alzare Questa palla Verso il ciolito Simeone Che la appoggia Verso Lindstrom Palla per Angissà Va dentro Dal ciolito Che la appoggia Dietro a Politano Che crossa in mezzo Verso Lindstrom Peccato qui Proviamo Provano a scendere Loro Attenzione Con Lobotka Neymar Si è sempre libero Van Basten Che tira Meret Poi riusciamo A metterla fuori In qualche modo Con Lindstrom Che riesce ad andare Da Angong Si gira Angong L'appoggia A Olivera Dentro per Lindstrom Che va di tacco Verso Ngong Che cerca ancora Lindstrom Scende Lindstrom Lindstrom Appoggia per il ciolito La parata incredibile La palla resta lì Provano a ripartire loro Attenzione Di Lorenzo Lobotka Belbrek di Lobo Che poi appoggia Nangissà Scende Nangissà Va dentro Da Lindstrom Prova ad andare Dal ciolito Pongong La mette in mezzo Male purtroppo Angissà Attenzione Proviamo a rientrare Adesso con Rachmani Che affronta De Bruin La palla arriva Neymar Mazzocchi Teo Palla verso Neymar Teo Attenzione Centrale De Bellingham Che fallo è Porca troia Magari Magari Sissi una livella Del genere Attenzione De Bruin La palla La palla messa fuori Dalla barriera Palla dentro Calcio d'angolo Stiamo soffrendo Stiamo soffrendo Attenzione Calcio d'angolo Esce Lindstrom Palla al piede Abbiamo capito tutto Se ne va a Lisbono Lindstrom ancora Lindstrom Alza questo pallone Verso Nangong E colpisce Per Angissà La riappoggia per Nangong Che allarga per Olivera Che vada Nangong Abbiamo provato ad andare in contropiede Nangong si incira Crossi in mezzo Il ciolito Contropiede perfetto E il ciolito Simeone Segna il suo primo gol stagionale Ragazzi Grandissimo Contropiede La calcio d'angolo loro Politano Palla per Pasqualino Mazzocchi Prova ad andare dentro La palla non passa Mazzocchi Prova a tornare Su Neymar Palla dentro Di Lorenzo Spassa di Lorenzo Ciolito Simeone Prova a girarla Niente da fare Angissà Riescono ad andare loro Di Lorenzo Palla fuori Errore di Di Lorenzo Fortunatamente in dolore La mette fuori Angissà Palla per Politano Dribla Se ne va Politano Ci dentro Per Pasqual Mazzocchi Che prova ad andare lungo Dal ciolito Fallo su Mazzocchi Siamo andati Incredibilmente A chiuderla Col ciolito Simeone Molto bene così Adesso lo botca Cercherà una palla Dentro Errore Di Lobo Palla Per Neymar Arriva Rachmani Che poi L'appoggia Meretto Che fa finire La partita Ragazzi 2-0 Partita Intensissima Bene Bene così Ci portiamo a casa La prima vittoria In divisione 4 Bella vittoria Ragazzi Bene 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 così Bell'inizio Ci vediamo Alla prossima puntata